Ci colleghiamo con un uomo che ha fatto dello scroccaggio un mestiere, il grande Zanfo Zanfagni. La redazione di Coscia Aperte presenta Scrocchignolo Settimanale di informazione A cura di Gigi Trombone È la 20, buonasera. È la 20? Complimenti, ho fatto pure la rima. Ciao, ma sta a parlare con me? Sì. Che c'ha il transfert lei, ha detto l'analista? Pronto! Oh madre, dimmi! Ma non so su madre, sono Zanfagni. Me sente? Ha voglia di Antani. Ha voglia di Antani? E se guardi amici miei? Non ho capito, lei che dice? Pronto, me sente? Oh! Mazza, se lei lavorava a sicurezza e stavo da solo un mezzo al mare mi faceva affogare. Pronto! Finito? De che? Finito che ci abbiamo persone qui. Ci avete persone? Ah sì. Che fa? Ho scafista lei? Senta, sono Zanfagni. Adesso è Scrocchignolo Mediaset. Conosce il programma? Vieni al dunque, che ti occorre? Vengo al dunque. Lei viaggegia? Tu regge? Gireggia per il mondo? Mandeggia la gente in giro sugli ai regi? Posso attaccare? Che deve attaccare? Che è la maniaca d'Oscoscia? A Vinaville? A Bossic? A Trevim Prene? A Colla del Bisonte? Che deve attaccare? Pronto? A proprio modo va appiccicare sta qua? A carta moschicida? Pronto, buonasera. Pronto? Sì? Sì, buonasera. Sono Zanfagni. In relazione di Scrocchignolo Mediaset. Pronto? Sì, no. Il pronto già l'avevamo fatto. Appartiene al passato. Scrolliamoci il passato dalle spalle. Guardiamo al futuro. Stai ragione. Sempre peggio. Sempre peggio? Se stava meglio quando se stava peggio? Ma che è fascista lei? Senta, sono Zanfagni. In relazione di Scrocchignolo Mediaset. Aspetti, la metto in via voce? Sì, ma mi metta pure in morta su nonna, ma porca miseria. No, anzimi. Che sta a fare? Asciclette mentre parliamo. Pronto? Come chi è? Tre volte gli ho detto Zanfagni. Non è un 2-3 stella che io devo ripetere. Aspetti, le passo alla collega. Ma che me frega a me? Passi chi vuole. La centralinista. Ma pensa te. Pronto? Pronta? Sì, mi dica. Lei il cervello ce l'ha tutto? Sì, quasi tutto. È perché la signorina gliel'ha asportato. Sono sempre io tanto. Ha fatto una puntata di X-Files. Ah, è sempre lei? Mi saluta Molder e Schelli. Senta, io sono Zanfagni. Da redazione di Scrocchignolo Mediaset. Conosce? No, non lo conosco. Non conosce me? Non conosce Mediaset? Non conosce la redazione? Ti ha precisa? Sì, infatti siamo in chiusura. Siamo in chiusura? Eh. Eh, tiri giù la sala cinesca e parli con me. Schiacci il pulsantino, no? No, no, è manuale questo. È manuale, certo. Cioè c'è lei che si appiccica la sala cinesca, eh? Eh già. Eh, con le gambette che pensano le tira giù. Ma che me frega, mica gli devo girare la biografia sua, scusi. Eh, vabbè, però devo attaccare, eh. Pure lei deve attaccare, che c'è la mania del vino a Vilmo. Senta, lei viaggegia? Tu reggia, gireggia per il mondo? Evidentemente no, è stanziale. Questa ha inventato agricoltura. Era 20, buonasera. Pronta? Mi perdoni. Oddio, che ha fatto? Se vado a costituire. Lo prego. Sì, ma mica so il signore io che la devo perdonare e che me prega. Capisci? La pianti. Sono abbastanza importante ma non così importante. Non c'ho manca la barba e il triangolo sulla testa. Pronto? Ma pensa a testa invasata, oh? Questo è Zubeste.